Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Cari amici di svelata, Amen è una donna. Vi avrà lasciati un attimo interdetti, suppongo, questa strana formula, questo strano saluto, ma è quello che ha scelto, che si è inventato, il signor Emanuel Cleaver, membro democratico della Camera dei Rappresentanti per lo Stato del Missuri, pastore, protestante e medodista, che per la prima volta nella sua carriera politica è stato capace di dire qualcosa in grado di fare il giro del mondo, eppure non si è distinto per troppa intelligenza. Invitato a pronunciare infatti la preghiera di apertura del 117esimo congresso degli Stati Uniti d'America domenica, ha deciso di introdurre un gesto verso la cosiddetta e fantomatica neutralità di genere. Lo chiediamo in nome del Dio monoteista, Dio conosciuto con molti nomi e da molte fedi diverse. Amen è una donna. Amen è the woman. Ha detto in un'espressione che è tecnicamente nello stile dem, non c'è niente di più democratico e quindi tirannico della stupidità. La stupidità intrinseca di Emanuel Cleaver ha sconcertato quasi tutti, non proprio tutti, quando ha deciso di chiudere la preghiera di apertura di domenica al nuovo congresso, ripetiamo, con Amen and the woman, come se la parola Amen, Amen, l'avrà letta così, presupponendo nella sua ignoranza una radice inglese, la parola di così, una delle parole più antiche del mondo, di radice ebraica. Ecco, Emanuel Cleaver è la sintesi di quello che ci aspetterà in questo 2021. Un tentativo di inclusività che gli era stato ispirato probabilmente da Nancy Pelosi, appena rieletta presidente della Camera, che ha prontamente introdotto nel suo discorso di apertura e di ringraziamento nuove regole del congresso che vietano il linguaggio di genere quando si descrivono le relazioni familiari. E' certo che siete confusi, non preoccupatevi, perché Pelosi ha redatto una comoda quanto inconcludente lista. Padre, figlio, madre, figlia, zio, zia, cugino, cugino, qualsiasi altra parola simile che accenni al sesso biologico, al dato di natura, non potrà più essere usata in riferimento a un parente di un membro del congresso. Questa regola, ha affermato Pelosi, riflette le opinioni e i valori dell'intera nostra maggioranza democratica alla Camera, storicamente diversificata. A quel punto, Cleaver sarà stato colto da un tale terrore di inciampare nel genere femminile, in quello maschile che, tra i sudori freddi, ha tentato, stupidamente, di assicurarsi che la sua preghiera non finisse con quella parola tossicamente mascolina. Amen. A uomo, forse, nel suo cervello. Doveva significare. Naturalmente, come per la maggior parte delle priorità della politica, dell'identità e dell'inclusività, tutto ciò non ha senso. Eppure, come si è arrivati a tanta ignoranza? Ad un tale disprezzo per la realtà? A me non è mai stata una parola di genere per quel che voglia dire un'espressione, questa espressione, deriva dall'ebraico e significa certezza, verità, così sia. È pertanto dolorosamente ironico constatare come i progressisti che negano la biologia si impelaino con la verità e quindi lancino se stessi nelle sabbie mobili della realtà e ne escano fingendo indifferenza. Mentre parte del mondo ridacchia, sebbene non vi sia nulla da ridere, e gli dà solo dello stupido, ci rendiamo conto di quanto ci sia poco e divertente se il congresso usa, se arrivi a mostificare persino una parola come Amen. Se si immagina che una parola così antica possa essere appannaggio del barbaro, quello sì, con la grammatica rudimentale che si ritrovano, inglese e moderno, vuol dire che Cleaver, prima di una capatina allo psichiatra per forme strane di associazioni dalla realtà, dovrebbe tornare alla scuola elementare. Se i democratici vogliono davvero essere coraggiosi soldati contro l'esclusività di genere, perché non prendono in considerazione la possibilità di modificare in modo simile altre parti del dizionario e perché ancora non ci sono riusciti? In Italia abbiamo avuto chi molto sensibile all'irrealtà si è inventato la Presidente, la Presidenta, anzi, come se il mondo aspettasse la sua venuta per accorgersi delle regole della grammatica così impari, così ingiuste. E allora l'assessora, la sindaca, la medica, la presida, la ingegnera sono entrate a gamba tesa in vocabolari mai redatti. Ma qualcuno osava celiare, se qualcuno osava celiare su Presidenta, ecco che il dato di natura, ancora una volta, si imponeva in quel piagnucolare proprio delle femminucce sull'imperante sessismo. E ogni riferimento al deputato Boldrini è puramente casuale. Siete voi che pensate male. Il caso Cleaver però ci dimostra che nulla può più l'indignazione contro l'intera fattoria degli animali di orvegliana memoria e contro l'infinita catena di mistificazione globale. È indispensabile oggi, di fronte a Amen e E-Women, un passaggio successivo. Eppure resta la domanda con la quale abbiamo introdotto questa breve riflessione. Perché è successo? Perché la prima generazione dall'inizio della storia dell'umanità che non ha conosciuto né fame né guerra è così disperata da odiare la realtà. Oltre le più ovvie constatazioni, il deputato Cleaver, con la sua ignoranza, ci ha riportati al punto più importante. Da circa 60 anni l'Occidente è la prima civiltà ad aver rinnegato la propria religione per sostituirla con il nulla. E se il nulla avanza, si sa, avanza anche la schizofrenia. Una delle cause di questo aumento folle della lotta alla realtà e quindi della depressione è la perdita del rito religioso condiviso. Siamo davvero l'unica società che non ha riti condivisi. Quasi meno del 10% in Occidente va ammessa. Oggi che il politicamente corretto ha tolto la bellezza della religiosità del rito condiviso, la modernità agonizzante ha spazzato via il sacro per sostituirlo con il sociale utile. Si è arrivati a chiese vuote convertite, tra molte virgolette, in palestre e moschee e siamo al cospetto quasi con naturalezza dell'ottusa ignoranza come quella di Emanuel Cleaver. Quando si portavano i bambini in chiesa e si faceva loro prendere parte ad un rito religioso, la prima cosa che si notava era quanto restassero rapiti, attoniti di fronte alla straordinarietà che vi era tutto intorno, aiutavano a definire il confine con il totalmente altro che sta fuori a certi luoghi. Il rito religioso fatto in un certo modo si confà di gesti straordinari, immagini straordinari, odori straordinari come l'incenso, musica straordinaria. Tutto teneva i bambini ma anche gli adulti in silenzio, stupiti ma calati in quella realtà ben definita che definiva confini e limiti ed estremi. Studi qualificatissimi dimostrano infatti da sempre che l'importanza della spiritualità sta non solo nella costruzione della felicità ma anche nella costruzione dell'equilibrio neurologico. Ecco cosa ci ha dimostrato all'alba dell'anno nuovo il signor Cleaver, la postmodernità ha distrutto l'equilibrio neurologico. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast 14 in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org